Temptation Island Tuttavia, però, alcune vicende hanno attratto maggiormente l'attenzione del pubblico da casa, che anche dopo la fine del programma televisivo hanno continuato a seguire tutte le notizie L'ultima puntata andata in onda di Temptation Island infatti ha visto il falò finale Tra Martina e ormai l'ex fidanzato Giampaolo IV, proprio la Sebastiani dopo un confronto acceso, ha deciso di uscire dal programma da sola preferendo quindi la possibile frequentazione con Andrew Proprio quest'ultimo in un'intervista rilasciata alla rivista di Uomini e Donne Magazine è tornato a parlare dell'esperienza vissuta a Temptation con Martina Temptation Island Gossip, Andrew si apre in un'intervista per la rivista Uomini e Donne Magazine Come accennato nel paragrafo iniziale dell'articolo, l'ex tentatore di Temptation Island, Andrew, è tornato a parlare della relazione che ha vissuto con Martina Sebastiani durante il reality Martina mi ha colpito fin da subito per la sua solarità, è una persona che riesce a metterti di buon umore soltanto standoci vicino Parole al miele quelle usate da Andrew, che però ha voluto rimarcare altri concetti su Martina, non mi sono mai sentito tentatore nei suoi confronti, sono sempre stato me stesso ed ero interessato ad approfondire la conoscenza, perché vedevo lei sempre più dubbiosa della sua relazione Andrew felice di aver aiutato Martina ad uscire dalla sua difficile situazione sentimentale Secondo voi Andrew e Martina potrebbero davvero innamorarsi fuori dal programma televisivo? L'ex tentatore Andrew durante la fine dell'intervista per il magazine di Ued sembra tuttavia lasciare aperte tutte le porte A prescindere da come potrà andare con Martina, sono convinto comunque di averle dato l'opportunità di riprendersi in mano la sua vita Come reagirà Martina davanti a queste dichiarazioni fatte da Andrew? L'ex di Martina, Giampaolo, rilascerà delle dichiarazioni per replicare all'ex tentatore Come reagirà Martina, Giampaolo, rilascerà delle dichiarazioni per il magazine di Ued sembra